Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, scusate la luce divina che vedete, che mi sto cecando ma dettagli, perché sono le 8 di sera. Purtroppo non ho fatto tempo a vedere una ceppa di niente, ma ho visto tipo spoiler ovunque, perché oggi, come sapete, se non sapete ve lo dico io, sono usciti un po' di clip tipo spoiler di scam della 4x1. Come sapete io sono innamorata di quella serie tv. A vuole la mia vita dove ci sono gli Evac, la coppia più bella del mondo, quindi non potevo resistere fino a venire di più a vedere la puntata intera e ho deciso di fare la reaction, insieme a voi, in diretta, dei primi 7 minuti che sono usciti sottotitolati in inglese su YouTube. Praticamente mezzo mondo ha postato gif, foto, roba varie su Twitter, io non ne potevo più, ho detto ok devo vederla perché sennò vedo solo spoiler e non so niente. Quindi andiamo su YouTube e cerchiamo subito, ovviamente i primi 7 minuti, in cui farò la reaction. Mi raccomando di dirmi nei commenti se avete visto anche voi, altrimenti questo qua è un mega video spoiler, quindi vi conviene chiuderlo se non l'avete visti. Invece se li avete visti fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e tipo quanto belli saranno gli Evac, perché so già ho visto qualche gif in giro. Quindi cominciamo subito. Sono esercitata in questo momento. Ah sì, so che è Sanna la protagonista della quarta stagione, quindi deve essere figa. Sono tutte queste cose. Ok, c'è tutto normale insomma. Norvegesi fighi, questo è il problema. Norvegesi fighi ovunque, biondi, che non ci sono in Italia. Beh, la suoneria. Sì, vabbè, magari abbassare il volume. Un po' creepy. Ah, comunque devono aver messo lo streaming al contrario, perché per via del copyright. Quindi, anche per mettere sottotitoli. Non importa proprio lo stesso. Guarda come la guarda. Cosa vuoi? Giamilla, che non... Bello, questa cosa è dei messaggi, quanto adoro, quanto adoro. Ecco. No, no, gente, io lo sclero malissimo, non potete capire. Tipo le mani di di Evelyn ovunque, ma va bene. Ma c'è la gang, ma... Che belle, che belle. Madonna. Cioè, non sto neanche capendo cosa stanno dicendo, vabbè, non importa. Amori. Non andano a stare insieme allora a Magnus e Bilde. Oh, ve lo dico io, oh, a voi. Cioè, dai. Esatto. Corri angelici. Queste che si ingossano, sembrano io uguali. Cioè, mi sono perso che oggi, tipo, che è entrata sana, ma per chi se ne frega. Non credo che tu armiava con i capelli corti. Calgurro. Bro, quando parla in inglese. Faccio. Discorsi, sì, sì, ok. Sì, pisti, che bello, madonna. Quanto è che gli è, vabbè. Paradise. Che schifo, ma cos'hanno portato lo yogurt sulla pizza? Sì, in effetti. Cominza. Ecco. Che simpatica. Sempre. Nura, mi fate vedere Nura. È il mio preferito. Il silenzio calo. Sì, c'è un po' di ripraio, sì. Chris. Ciao Nura, top. Anche io, grazie. Sì, ma il tè con la pizza, vabbè. Tipo? Benun. Oh, Chris. Quanto mi mancherà, Hermon? Non si capisce gli effetti. Scusate, sei sblocato un attimo. Non si capisce gli effetti. Scusate, sei sblocato un attimo. Sì, ma dai, è anti-sgamo, proprio. Tossi, che parla mentre manda. Che bello spettacolo. No. Scusate, sei sblocato un attimo. Non è il tuo business. Povera Nura, dai. Sai che è finito? È sette minuti più bene della mia vita. Anche se gli Avax sono visti mezza frazione di millesimo di secondo, ma non mi interessa. Cioè, andrò a condividere e salvarmi foto ovunque. Non potete capire il disagio. Comunque, ne ho tolora che sia venerdì perché è scala puntata. Quindi, speriamo bene. Magari potrò fare anche la reaction sulla puntata in generale. Se ci sarà qualcosa di interessante. Intanto volevo farlo questi primi sette minuti perché sono usciti tipo ovunque. E non ce la facevo resistere, sinceramente. Che sono già troppi mesi che aspettavo. Quindi, ricordatevi di lasciare un like e se non mi siete iscritti, iscrivetevi. Non so più parlare. Scam che fa questi effetti, capite? Come ho detto anche all'inizio, ditemi nei commenti se l'avete visto, cosa viene perso, se non vedete lo di vedere la quarta stagione che purtroppo ho scoperto sarà anche l'ultima, che depressione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.